Il digitale cambia l'economia, in che modo, comunque è un bene e un male, ma comunque ormai il digitale ha preso il sopravvento? Ci siamo interrogati soprattutto sull'impatto del digitale nel mondo della finanza. Il fintech è una grande opportunità per avviare il risparmio di italiani verso le imprese, anche in contesti dove il territorio non aiuta il credito di prossimità, dove la desertificazione bancaria incombe. E naturalmente il ruolo delle finanziarie regionali, più in generale dei livelli di governo territoriale, è molto importante nel promuovere questo tipo di innovazione controllandola, regolandola, disciplinandola. Potrebbe aiutare anche i famosi fondi che arrivano dal PNRR? Il tema dei fondi del PNRR è estremamente ampio e variegato. Tendenzialmente quello che noi contestiamo al PNRR è di essersi caratterizzato fino ad ora per un approccio sostanzialmente ideologico, che è quello della Commissione in questa fase. Basti pensare alla transizione ecologica che è stata imposta con dei ritmi, pensiamo ad esempio al diveto di auto a combustione interna nel 2035, è del tutto incompatibile con la sopravvivenza dei nostri distretti industriali, un allarme che il mio partito ha sollevato per tempo e che è stato recentemente ripreso proprio ieri dal Ministro Giorgetti. Una stessa cosa vale per la transizione digitale. In Italia, ad esempio, abbiamo un forte problema di sicurezza delle infrastrutture digitali, quindi prima di affidarci interamente ad esse bisogna riflettere bene sulla loro affidabilità, sia sotto il profilo della continuità del servizio che sotto il profilo della tutela dei dati individuali.